Salve a tutti ragazzi e benvenuti nel mio canale Oggi ragazzi come potete ben vedere siamo di nuovo qui su Farming Simulator 19 Ovviamente nella nostra bellissima mappa No Man's Land Ovviamente però prima di iniziare vi ricordo che in descrizione trovate i miei link utili Compreso il link delle donazioni se volete fare un piccolo supporto al canale Bene, allora dicevamo Qui sto arando un pochettino Oggi voglio fare un po' di robina nel senso sicuramente dobbiamo mandare un pochettino avanti il tempo veloce Iniziamo a fare le lavorazioni del caso e poi decidiamo che fare dai Allora ovviamente teniamo d'occhio innanzitutto teniamo d'occhio un attimino gli animali A vedere come stanno ma mi sembra che stanno più che bene Ok allora mandiamo un pochettino avanti Germinato Ok adesso è germinato Ok in fase di crescita perfetto si doveva solo settare Un pezzettino solo veramente un pezzettino solo Ha fallito la germinazione vi avevo detto infatti che a parer mio Riusci... A fare andare a buon fine la germinazione e sono contentissimo perché veramente è andata a buon fine Allora direi che ci prendiamo il cassone questo qua si che c'è dentro un po' di mangime e ovviamente diamo sto mangime a sti animaletti Ok qua è a posto ora Dobbiamo ovviamente pulire qua speriamo che adesso questo vada proviamo a vedere se si è sbaggata Manco per idea niente devo venderla sta roba qua perché tanto non serve a niente va bene Ok delle galline ci siamo occupati pulire abbiamo pulito e ovviamente il cassone Sì il mangime glielo abbiamo dato Ora occupiamoci ovviamente dei cavalli che anche loro ne hanno... Ah qua cavolo devo rimettere il tubo perché hanno aggiornato la questione lì della mod Dell'acqua degli animali la animal pen expansion una roba del genere si chiama Raga una cosa interessantissima guardate adesso si può cambiare colore dei tubi fighissimo quasi quasi lo metto grigio va Che dà più l'effetto di tubo mi piace di più Qua ovviamente giriamo Così lo lasciamo ok Fighissimo veramente si possono fare un sacco di robe adesso comunque Va bene adesso confermo ovviamente si confermiamo ok Adesso l'acqua l'abbiamo messa nel punto di carico giusto stavolta Giusto proprio nella diciamo nella vasca qui per riempire l'acqua Poi dobbiamo dargli ovviamente paglia no fieno Vediamo un attimo ah si anche paglia paglia avena e fieno ok Vado a prendere allora tutto l'occorrente e gli diamo tutta sta robina va Sapete quasi quasi cosa facciamo Possiamo venderci un pochettino di galline perché effettivamente ce ne abbiamo 307 A me in realtà me ne basterebbero anche solo 100 Quindi 207 galline in realtà potremmo già venderle Si che mi producono 150 litri di uova Però guardate la stima del cibo richiesto 25.400 litri all'anno Cioè tantissimo per 300 galline Invece se teniamo un pochettino più contenuti i capi di bestiame Se si possono chiamare così Magari è capace che possiamo Un attimino magari Riuscire anche a contenere i prezzi Boh dobbiamo Devo pensarci un attimo a capire un attimino quali vendere Perché sinceramente non so quale mi convenga vendere ecco Facciamo adesso magari delle prove Vabbè comunque adesso andiamo a dare l'avena ancora ai cavalli Che manca solo quella E poi ci concentriamo un attimino sulla vendita delle galline E poi a questo punto raga voglio iniziare a prendere anche Tanto abbiamo tantissima erba qua Iniziare a prendere un pochettino di pecore quasi quasi Va iniziare a produrre un po' di lana Praticamente mi valgono un euro Cinque euro Allora io vendo quelle che costano di più Tutte queste che costano di più le vendo E mi tengo quelle che costano poco Così poi le faccio capite Un po' riprodurre E quando iniziano a costare un po' di più Poi le Le vado a dar via Allora muovi 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 Muoviamo tutte quelle da 5 euro Ok raga Allora conferma 1096 euro di animali venduti Ho venduto tutte le galline da 5 e 4 euro Mi sono ottenuto le galline da 3 euro 2 euro 1 euro e 0 euro Che sono praticamente le neonate Proprio da pochissimo Che sarebbero queste qua in fondo Esatto queste qui Che sono proprio quelle che valgono niente Perché sono proprio pulcini si può dire E infatti guardate adesso quanto è sceso A differenza di prima Sì adesso mi fanno 4 litri Di uova penso all'ora Però il cibo stimato è 7000 litri All'anno Cioè Meno della metà proprio Quindi direi che tutto sommato è più che ottimo Allora guardiamo un attimino qua Iniziamo a togliere ste robe Allora questa no ancora Lasciamola qui Vorrei giusto vedere Quanto Quanti ne abbiamo 17 pezzi Ok praticamente 2550 litri Quanto viene Le uova Cioè vediamo qual è il prezzo più alto Allora uova No è il prezzo più basso in questo momento Allora il prezzo più alto È il secondo giorno d'estate Quindi il secondo giorno d'estate Possiamo già iniziare a vendere le uova Perché arrivano quasi Dovrebbe arrivare a 5150 euro Adesso siamo intorno ai Vediamo se Ce lo sa indicare Siamo intorno ai 1417 No scusate 2369 euro In aumento Però Da quello che ho letto Dovrebbe arrivare il secondo giorno d'estate A 5000 Quindi Dovremmo riuscire a guadagnare più di 10.000 euro di uova In estate praticamente Ok allora Questo è fatto Iniziamo a prendere Innanzitutto la stalla Delle pecore Prendiamo la stalla delle pecore Che lo troviamo ovviamente In recinto animali Prendiamo quella Che viene meno Eh raga ve lo dico chiaro Allora questo no Perché È dei cavalli Pollaio Bovini No mi serve ovini Questa della JTAC Viene 85.000 euro Però io credo di avere Anche quella Delle Eh Della global No della modding wealth Scusate Che dovrebbe venire Sulle 35.000 Che direi che è decisamente meglio Quindi ci prendiamo Questo qua Da 35.000 E quasi quasi Io me lo vado a piazzare Ok raga Posizionato Via Abbiamo messo Modifichiamo un pochettino La texture Giusto da avere Una cosa un po' più Simpatica E poi direi che possiamo Iniziare a comprare I nostri primi Capi di bestiame Ok raga Ho sistemato un pochettino Con la terra Giusto da avere Un attimino La situazione Un po' più Più carina Questo è il nostro Bellissimo Capanno Capanno Sì Il recinto Delle Delle pecore Qua si può poi venire A scaricare Il cibo Ovviamente Qui Direi che possiamo Già iniziare ad aprire Perché poi I miei Le mie pecorelle Voglio che abbiano Un bel po' di luce Qua sistemiamo La questione Acqua Perché ovviamente È da sistemare Ok raga Tubi dell'acqua Sistemata Adesso iniziamo A comprare Ovviamente Le nostre Belle pecorelle Che in realtà Non so Precisamente Dove si comprino Credo qua Vediamo un po' Urca Ma costano tantissimo Però cavoli Le pecore Allora Partiamo dalla prima Una razza Una grande razza ovina Che cresce Moderatamente veloce Ha una modesta produzione Di lana E richiede una quantità Media di cibo È abbastanza fertile E buona per agnelli Di 25 Marra Fino a 40 kg Diciamo Poi abbiamo La merino Che ovviamente Penso che farà La lana merino È una razza Di media stazza Utilizzata per la produzione Di lana Immaginavo Cresce lentamente E non è molto fertile Non richiede una grossa quantità Di mangime Allora La razza ovina Di grande taglia Caratterizzata Da una rapida crescita Produce una modesta quantità Di lana E richiede molto cibo È fertile Ma con una maturazione Più lenta Ottima per agnelli Da 45 Fino a 65 kg Una razza di taglia media Con una rapida crescita Ma senza la produzione Di lana Molto fertile E con una maturazione Rapida Richiede poca alimentazione Ottimo per la produzione Di agnelli Da 40 Fino a 45 kg Io credo che Prenda l'ora Dorset Perché Cresce Moderatamente veloce Ha una modesta Produzione di rana E richiede Una quantità Di cibo Media Allora Ne prendiamo Quasi quasi Certo che la tariffa Cavolo 200 euro a capo Non mi sembra Proprio il caso Facciamo così Ce la Andiamo A prendere Col cassone Ce l'andiamo A prendere Col cassone Perché sinceramente Preferisco Non mi va Di andare A sprecare 200 euro A capo Di bestiame Per Insomma Una cavolo Di disposta Un cavolo Di spostamento Allora Prendiamoci questo Va che costa Anche poco Almeno Non facciamo Non facciamo Una grossa Spesa Tanto Lo useremo Veramente poco E niente Quindi Mi sembrerebbe Anche un po' Strano Allora Lo prendiamo Così che Veramente sono I colori Del mio canale Quindi Direi che È il minimo E andiamo A prendere Quasi Quasi Vado Con Il Dove stai Massey Con il Massey Che è quello Un po' Più Velocino Non vorrei Prendere Il 180 90 Per Portare 4 pecore Sinceramente Sprecare benzina Per 4 pecore Però Prima facciamo Ovviamente Carburante Perché Ne ha di Necessità Allora Diesel Ok Raga Eccoci Arrivati Allora Carichiamo Ovviamente Il nostro Bel Cassone Eccolo qua Piccolo Ma molto carino Devo dire Poi Arancione Come il mio Colore Del canale Quindi Più che bello Allora Il mercante Di bestiame È questo Qua Questo È il nostro Mercante Di bestiame Fortunatamente Questo Almeno Ce l'abbiamo Allora Apriamo Allora Prendiamo Abbiamo detto Le dorset Ne prendiamo Quasi Quasi Eh Per forza 4 Raga Più di 4 Non posso Prendere Perché Il cassone Massimo Ne tiene 4 Quindi Conferma Abbiamo speso 1.974 euro Praticamente Abbiamo speso I soldi Della vendita Delle galline Fighissimo Praticamente Con le galline Ci siamo riusciti A comprare Le pecore Guardate un po' Che figata Bene Allora Guardate Sono ancora più convinto Di aver fatto bene A vendere Ste 200 207 galline Praticamente Bene Bene Contento Veramente Ok Ci vediamo In farm Ok Eccoci Arrivati in farm Eccoci Eccoci Credo che poi qua Dritto per dritto Dovrò tirare Una stradina Dovrò fare Perché Se no mi tocca Sempre fare tutto il giro E non mi va Sinceramente Allora Eccoci arrivati Eccoci arrivati Nella vostra nuova casetta Eccoci Eccoci Allora Dobbiamo portarle Ovviamente Qua Ed eccole qui Le nostre prime Pecorelle In realtà qua Ce ne sono solo tre Però Eccole qua Belle Belle Ragazzone Belle Dov'è l'altra Tutta sola Ti hanno escluso Dal gruppo Poverina La pecora nera Praticamente Allora Riempiamo l'acqua Ovviamente Che sono solo 250 litri E ovviamente Abbiamo bisogno Adesso di Erba E fieno Mi pare Se non sbaglio Allora O erba O fieno Ah ok Non gli devo dare Tutte e due insieme O erba O fieno Io in questo momento Ho solo il fieno Quindi Gli do solo il fieno Per il momento Raga Ho solo quello Purtroppo Io spero però Sinceramente Che gli operai Non facciano casino Dato che qua C'è Il recinto Delle pecore Speriamo Non facciano Troppo caos Vabbè Adesso Questo poi Lo dobbiamo andare A mettere La sotto Però Prima La cosa più Importante Dare da mangiare A mie pecore Perché ho paura Che se no Tempo neanche di averle comprate Già Mi muoiono Allora Prendiamo il cassone Per il cibo Agli animali Scarica Intanto iniziamo A dargli sto Sto fieno Ah non ne hanno bisogno Neanche di tanto 1000 litri di fieno Hanno bisogno Hanno bisogno Di circa All'anno 4422 litri Questi 422 litri Da dove sono usciti Se sono solo Ah no Forse è l'acqua Forse è conteggiata Anche l'acqua Sinceramente Non lo so Sinceramente Non lo so Può darsi Comunque 1000 litri di erba O fieno Per il momento Sono solo 4 Però poi Quando inizieranno A riprodursi Giustamente Ma Una cosa Me la sto domandando Sono 4 femmine Non credo Si riprodurranno Mai Cioè Non c'è il maschio Raga Ora che ci penso Comunque Sono belli pesanti 65 kg Di pecore Ok Animali Controllati E un problema Ce lo siamo tolto Ora la cosa Più importante Dobbiamo controllare Assolutamente Il frutteto Perché ho visto Che manca Sia concime Sia Acqua Quindi dobbiamo Dargli tutta Questa bella roba Ok Diamo tutta La robina Ai nostri Bei Alberelli Speriamo Basti tutto Sinceramente Mi sa di no Speriamo Dai Speriamo Speriamo Beh in teoria Si dovrebbe bastare Però devo andare a fare Poi un altro carico Prima della Della prossima roba Eh si Perché poi Questo basta ancora Per un altro Probabilmente E basta Non penso Basterà poi per Ovviamente Per tutti Quindi poi dovrò andare A fare un bel carico Va bene Allora Lasciamo adesso un attimo Qua questo Poi me lo Me lo aggiusto dopo E ovviamente Li andiamo a dare L'acqua Perché manca pure Giustamente l'acqua Ok raga Perfetto Alberi sistemati Che è la cosa Una delle cose Più importanti Direi Adesso ovviamente Non abbiamo ancora Troppo tempo Però nell'ultimo tempo Che è rimasto Siccome abbiamo Praticamente sistemato Tutto Voglio Dare una botta Di aratura Laggiù Aspettate no Devo farlo con Questo trattore qua Laggiù è al campo Raga Vediamo se Entro la prossima Semina Riusciamo magari A Comunque Poter Utilizzare Usufruire Quel pezzettino Lì In realtà Si Si potrebbe anche Togliere l'erbaccia Ma è talmente Ah no Aspettate Fermi Cosa dico Devo fertilizzare Devo fertilizzare Cavoli Accidenti Allora Vediamo un po' Io voglio fare Tutte le cose Tutte insieme Allora Qui siamo Al secondo stadio Qualche pezzettino Al terzo Questo tutto Al primo Quindi questi tre Assolutamente Devo farli Perché Oh mamma mia Io Devo iniziare A fertilizzare Da qua Ovviamente Dovrebbe fertilizzare Penso proprio di si Si infatti Bene Ci vediamo a fine campo Dai Ok raga Primo campo terminato Andiamo subito 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 Al secondo E al terzo campo E voilà Raga Ultimo pezzettino E anche Il campo Due E terminato Perfetto Cioè terminato Al secondo stadio Di fertilizzazione Però è terminato Comunque a posto Anche il campo Tre E terminato Voilà Ok Dedichiamoci adesso Ovviamente Al campo Questo qui A erba Che è l'ultima Fertilizzazione Che dobbiamo fargli Per questo campo Quindi poi Non dobbiamo più Preoccuparci Per questo campo Ad erba E anche per Il nuovo campo 5 Quello grossissimo Ok Anche il campo Anche il campo Ad erba È fatto Partiamo Con il campo Questo qua Anzi quasi quasi Sapete cosa faccio Ci metto l'operaio Vai così Mi prendo Un qualsiasi Trattore Un libero In questo caso Questo qua E ci andiamo A praticamente Prendere L'aeroratrice Molti di voi Mi avete detto Sia nella ischia Sia qui nella Nomence Lava di più i mezzi Che è più bello Vederli lavati Probabilmente avete ragione Perché vederli proprio Sempre sporchi Sporchi Non è proprio il massimo Quindi dai Laviamoli un attimino Ok Adesso forse Un pochettino meglio Non è lavato Proprio al 100% Però Prendiamola Ovviamente Non credo neanche Ci sia Sì Ma quasi quasi Porto anche l'erbicida Raga Lo vendo Perché tanto Non lo usiamo Per tenere un pallet In mezzo alle scatoline Direi che ce lo possiamo Anche vendere Ok raga Eccoci arrivati In farm Eh sì In farm Ah intanto L'operario Ho completato il lavoro Allo shop Eccoci arrivati Allo shop Stacchiamo L'irroratrice Che non ci serve più Spostiamo un attimino Il trattore E direi che Ce la possiamo Andare a vendere Raga Non è male Non l'abbiamo Praticamente mai usata Praticamente L'abbiamo venduta Come nuova Nuova Anzi Ci abbiamo rimesso Anche il 32% Di erbicida Quindi Direi che Meglio di così Non si può chiedere Veramente Ok raga Eccomi arrivato In farm Allora Risistemiamo Oh cavolo Ma Pesa troppo Sta roba No Ok raga Io direi che Sistemiamo Sta roba Un attimino E poi Quasi quasi Ci salutiamo Va bene Ok Calceviva Ok Tutto a posto Raga Io ragazzi Ovviamente Vi ringrazio Per la visione Vi ricordo di lasciare Un bel like Un bel commento Per queste nuove Pecorelle Che abbiamo comprate Per queste Grasse pecorelle Guardate Ve le faccio rivedere Eccole qui Qui ne abbiamo due E qui le altre due Amma mia Che casino Bene Io ragazzi Vi ricordo Nuovamente In descrizione I miei link utili Ho compreso il link Delle donazioni Se volete fare un bel Supportino al canale Vi ringrazio Vi mando un grosso saluto E ovviamente Ci vediamo al prossimo video Ciao a tutti